La ricerca è completa È molto complicata Tramite la CNA abbiamo conosciuto questo servizio di ricerca di personale E quindi tramite loro finalmente abbiamo trovato questo canale che ci ha aiutato Ci ha aiutato in questa ricerca Grazie alla CNA qui a Via Livorno per esempio già ho trovato Tamara Che è una ragazza, è una banchista Ha già esperienza quindi è una figura professionale Molto qualificata e quindi noi siamo soddisfatti del servizio Volevo portare questa mia esperienza insomma anche a tutti voi È stata una bella scoperta